Ciao ragazzi, benvenuti in un'episodio su Radio Games E oggi andiamo tra la sfida di Cash of Clans Con un'altra sfida, penso, molto veloce Oggi andiamo ad affrontare un attacco con 200 goblin a livello 5 Sarà uno delle sfide più veloci che faremo oggi Perché diciamo che questo villaggio è in effetti troppo difficile secondo me Però potrei adottare una cosa molto carina Allora andiamo qua, attacchiamo da sta parte Da questa parte qua, no ma perché uscite? Una volta che andiamo da qua E l'anno di lama, porco, demonio Se la bomba è esplosata, l'anno Dai andate dentro le mura, no? Là fuori Ah che merda di cosi Dai dovete prendermi risorse Ah ma che merda Che scarsi Siete delle schifezze Ok era un po' difficile questo cosa Ma pensavo che i goblin andassero A prendere questa cosa qua Che merda che fanno i goblin Comunque goblin insieme ai spaccamuro sono totalmente inutili Comunque magari insieme a qualcosa di più forte che distrugga le difese sono più utili Però vedo che Wow Grande attacco Quindi questo essenzialmente Goblin e spaccamuro fanno schifo I spaccamuro ci sono rimasto male Perché pensavo Boh spacchi il mulo Ok Ma non pensavo che distruggessero tutti i muri Pensavo che appena aprisse Apprivate un buco Loro entravano dentro Distruggevano qualcos'altro E non i muri Ma invece no Sono scemi E i goblin fanno schifo Quindi vabbè Sono dettagli Queste due sfide sono state più veloci del solito Però ecco Queste erano le sfide La prossima saranno più lunghe Ve lo prometto Comunque per questo video è tutto Noi ci vediamo nel prossimo episodio E naturalmente Adesso Oh my god